Credo che molti sappiano della vicenda del microscopio elettronico acquistato grazie a una raccolta fondi popolare sponsorizzata da Beppe Grillo. Chi non lo sapesse o volesse rinfrescarsi la memoria può andare al sito che vedete in sovraimpressione in questo momento. Il fatto sta che il 22 gennaio del 2010, quindi molto molto più di un anno fa, per motivi che non sono mai stati spiegati, Beppe Grillo ha pensato di portarmi via il microscopio elettronico con cui noi facevamo le ricerche sulle nanopatologie. In questo momento quindi noi ci troviamo nell'impossibilità di continuare a lavorare. Non passa giorno che io non ricevo delle telefonate o delle mail di persone che mi chiedono aiuto, che mi chiedono consiglio, che mi chiedono analisi di qualche cosa di ambientale, di qualche cosa che disturba la loro salute, di qualche cosa che disturba il loro ambiente. Io a tutte queste persone non posso dare nessuna soddisfazione perché purtroppo il microscopio non c'è. Questo microscopio è dal 22 gennaio 2010 inutilizzato, completamente inutilizzato all'Università di Urbino. Noi in questo momento abbiamo due possibilità. Una è quella di intentare una causa all'Università di Urbino o perlomeno di tentare in qualche modo di vederci restituito il microscopio che era stato acquistato esclusivamente per noi e senza nessun'altra clausola, senza che nessun altro destinatario di queste donazioni venisse mai nominato. La prima possibilità dunque è quella di unirsi a un'associazione di Roma chiamata Vita al microscopio, vedete in sovraimpressione in questo momento l'indirizzo, e iscriversi a questa associazione. Chi ha donato denaro a suo tempo perché noi potessimo avere il microscopio indispensabile può scrivere a questa associazione dicendo, specificando che quel denaro era stato dato esclusivamente perché i dottori, gatti e montanari potessero avere il microscopio e quindi quel microscopio deve ritornare a loro. Chi poi avesse ancora la ricevuta di quel versamento, di quella donazione, può mandarne copia a Vita al microscopio. La seconda possibilità che abbiamo è quella di raccogliere fondi per acquistare un microscopio nuovo. Questo ben sapendo che la giustizia italiana ha dei tempi che non sono proprio i più rapidi di questo mondo. Voi vedete in sovraimpressione in questo momento l'indirizzo cui mandare eventuali donazioni. Vedete che c'è un conto corrente postale. Questo conto corrente postale è dedicato esclusivamente a questa raccolta fondi. Una volta che riuscissimo a mettere insieme i 400 mila euro che servono per acquistare un microscopio nuovo, ecco che avremmo risolto ogni problema. Quindi chi ci vuole dare una mano ha tutte le possibilità per farlo. Naturalmente se non riusciremo nei nostri intenti questa ricerca finirà e nessuno poi mi chiederà più aiuto perché io aiuto non lo posso più dare a nessuno.